Amici del Bardo, eccomi qui anche oggi con tutte le ultime news dal mondo del Pro Wrestling. Iniziamo da Eric Rowan e Luke Harper che sono pronti a tornare a SmackDown con un team che si chiamerà Bludgeon Brothers che possiamo tradurre e adattare come i fratelli della mozza ferrata o, se più vi piace, come i fratelli delle armi pesanti. Visto che il nome della squadra inizia con due B, potrebbero facilmente essere loro i colpevoli finali dei Fashion Fights dei Brisango. A novembre The Miz presenterà il format The Challenge su MTV. L'impegno durerà otto settimane e ancora non è chiaro se e come intaccherà la sua presenza nel ring. Tra le celebrità in gara, che si scontreranno contro i concorrenti delle passate stagioni del format, figura anche l'ex WWE Cameron. Nel frattempo sembra trovare conferma quanto vi ho riferito ieri come rumor, e cioè che Neville abbia abbandonato Raw prima dell'inizio dello show con l'apparente intento di lasciare la WWE. Su questo però vorrei stare cauto, andiamoci col piedi di piombo, attendiamo ulteriori delucidazioni. AJ Styles ha dichiarato in diverse interviste di essere eventualmente pronto ad aiutare Shane McMahon contro Kevin Owens e Sami Zayn, e questo ha aperto ovviamente le porte alle speculazioni su un possibile tag team match tra le parti a Survivor Series. Styles ha anche aggiunto che gli piacerebbe riformare un gruppo con Karl Anderson e Hugh Gallows, i due del club, per ricreare l'alleanza che tanti successi ha dato loro in Giappone. Page è ancora al lavoro al Performance Center della WWE, di modo da tornare al più presto in perfetta efficienza fisica. Quando la rivedremo nel ring, al momento è impossibile fare previsioni. Rispondendo alle domande dei fan su Twitter, James Ellsworth ha rivelato che la mossa più dolorosa che ha subito è stata una legnata sul petto da parte di Braun Strowman, e non fatico a credergli. Il ragazzo senza mento ha anche messo in evidenza, però, la grande gioia dei suoi genitori, quando hanno saputo che avrebbe avuto un'occasione in WWE, dopo tutti i sacrifici fatti per il wrestling durante la sua vita. E questa cosa un po' mi ha, non dico emozionato, però mi ha fatto piacere leggerla, perché insomma anch'io ho avuto una gioventù un po' travagliata, la mia famiglia non è che nuotasse nel loro, anzi tutt'altro, e in effetti quando mi è cambiata la vita, quando ho vinto dei provini, sono entrato a stream, ma poi quando sono arrivato a Sky, che il wrestling è diventato davvero un lavoro, e non uno dei 3-4 lavori che svolgevo, beh effettivamente la gioia di mio padre soprattutto, che era l'unico genitore rimasto, mi l'orgoglio per certi versi, ma anche il sentire che in qualche modo avevo svoltato, ecco, sono ricordi che rimangono sempre lì a galleggiare. Alla fine James Asward mi sembra tutto sommato, al di là di quello che recita, una brava persona, e leggere queste cose mi ha davvero fatto piacere. Allora, per le date italiane di novembre, la WWE ha annunciato la volontà di proporre un match femminile 3 contro 3, Charlotte, Becky Lynch e Naomi contro Natalia, Carmella e Tamina. Ora, come sempre, devo dirvi che non è scritto nella pietra. Tutti gli incontri, anche quelli che vi ho riferito in precedenza, possibili per il tour di novembre della WWE, non sono certi, sino a che lo show non comincia. Certo è che tutte queste battaglie a squadre allargate o a 5, eccetera, mi fanno un po' pensare, mi spiace dirlo, ma un show un pochino a risparmio. Ecco, nel senso, i match uno contro uno sono belli, qualche match a squadra è bello, ma fare dei grandi calderoni con dentro tutta sta gente, sarà anche emozionante, sarà anche piacevole vederle dal vivo. Sono tutte grandi professioniste, però io avrei preferito magari dividerle in un paio di incontri. Quindi, sicuramente avrei gradito di più, che ne so, Charlotte contro Natalia e le altre due in squadra contro di loro, Becky e Naomi contro Carmella e Tamina, per dire. Ma vabbè, questa è la mia idea. Magari voi qua sotto di Tarro 20 potete farmi sapere la vostra, perché può darsi che mi sbaglio, che la mia opinione sia in minoranza e a questo punto ne prenderei nota. Quindi qua sotto avete già questo e tanti altri argomenti di discussione. Abbiamo quasi finito. Allora, due cose ancora. Non sono del tutto chiare le condizioni di salute di Shane McMahon, dopo Elin e Sel, me l'avete chiesto in tanti. Secondo alcuni siti avrebbe riportato una commozione cerebrale, ma non ho fonti certe per confermarlo. Quindi anche qui prendiamo le cose con le dovute precauzioni. Infine, intervistato dal The Sun, Roman Reigns ha letto alcune cose interessanti. Ovvero, uno, che sconfiggere John Cena è stato un onore immenso e che difficilmente qualcuno riuscirà ad eguagliare i suoi 15 anni al top della WWE. Due, che dopo tre main event consecutivi a WrestleMania, non ottenere il quarto sarebbe per lui una grossa delusione e quindi sta lavorando duramente per arrivare anche quest'anno nel match principale della card. E infine, tre, che combatterebbe molto volentieri a WrestleMania contro The Rock, visto che sarebbe un match capace di far parlare tutto il mondo e che genererebbe un sacco di interesse e di quattrini. E con questa abbiamo finito. Per un paio di giorni le news vanno a riposo, perché io volo, anzi, volo, viaggio verso Bologna, che ho i campionati italiani di Magic, mi sono qualificato, ma la settimana prossima torniamo. E poi, da qui a domenica, ho già programmato qualche altra uscita delle rubriche correlate di modo da non lasciarvi soli, ok? Adesso però, la palla passa a voi, dite a roventi qua sotto, potete commentare tutto quello che vi ho detto, ovviamente con educazione. Avanti! Fatevi sotto!